Buongiorno a tutti, io sono Martina Pittavino, un'ex aluna del Grandis e l'anno scorso mi sono diplomata nel settore dei servizi commerciali. Grazie a questa scuola posso dire di essere cresciuta molto sia dal lato professionale sia personale, grazie soprattutto al rapporto creatosi con i docenti, sempre disponibili. Le diverse ore di laboratorio, lo studio delle materie specifiche diritto ed economia e i diversi anni di alternanza scuola lavoro mi hanno permesso di creare una base solida di conoscenze che mi hanno permesso di affrontare dopo la scuola il mondo del lavoro. Mi ricordo in prima superiore quando sono arrivata in questa scuola che ero molto timida, molto insicura. Con il passare degli anni però ho consolidato le mie conoscenze, ho preso consapevolezza delle mie capacità e capito quanta voglia avessi di mettermi alla prova e di imparare sempre cose nuove. Questa voglia di apprendere ce l'ho tuttora con il lavoro, trovato un mese dopo il diploma in cui ogni giorno devo mettermi alla prova e interfacciarmi con situazioni nuove che non conosco, ma tutto ciò mi permette di aumentare il mio bagaglio di conoscenze. Posso dirvi che se questa sarà la vostra scelta di scuola, state sicuri che troverete sicuramente un ambiente confortevole e accogliente, degli insegnanti disponibili e soprattutto ne uscirete più maturi.